Ma dobbiamo smetterla di pensare che i marocchini sono buoni soltanto a lavare i vetri Oggi sveglieremo questa faccenda, parleremo di musica proveniente dal Marocco proprio all'interno di Made About Music, la rubrica di Urban Week che ti porta un po' in giro per il mondo Io sono Manuel Eletrino e oggi vi parlo di musica marocchina Seguitemi, andiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti